bella ragazzi sono Luke e benvenuti nel mio canale con questo nuovo video oggi vi voglio parlare di un progetto che ho in mente di aprire cioè le sponsorizzazioni vedo che siete abbastanza ad essere iscritti nel mio canale in 31 se non sbaglio infatti vedete però vorrei che voi foste più attivi che rispondesse di più alle domande nei commenti e che magari lasciò che vi è piaciuto o comunque anche un non mi piace basta che mi motivate la vostra scelta comunque come vedete dalla scritta qua ho intenzione di fare un contest a 50 iscritti poi magari anche qua sotto suggeritemi voi dei premi per il contest e come avverrà comunque bene allora oggi vorrei parlarvi del progetto che ho in mente di fare perché ogni settimana ho in mente di aprire questa rubrica in cui sponsorizzerò i tre canali migliori che vogliono essere sponsorizzati cioè sotto questo video voi nei commenti scrivete ciao voglio essere sponsorizzato io in una settimana guarderò tutti i canali di quelli che mi hanno scritto che vogliono essere sponsorizzati e poi farò uscire un nuovo video dopo deciderò il giorno magari ogni mercoledì sì e in cui vi sponsorizzerò e metterò i tre canali migliori che ho scelto guarderò un po di vostri video mi iscrivo e vi aiuto fare un po di vi farò un po di pubblicità appunto bene io per questo video ho finito spero che questo progetto vi possa piacere vi possa essere utile e vi chiedo di sostenermi anche qui lasciando un bel mi piace un commento e di dirmi cosa ne pensate di questo progetto io vi saluto ci vediamo un prossimo video bella bella